Riconversione per la Italcanditi. Sarebbe scongiurata la chiusura dell'azienda alimentare a Marradi. Il piano della proprietà è stato illustrato al tavolo della Regione. Facilitare il rientro post-Covid nello sport approvata dal Consiglio regionale, una mozione sulla ripresa degli allenamenti di giovani e dilettanti. Buonasera e ben ritrovati a Monitor Consiglio. Partiamo dalla vicenda della Italcanditi, l'azienda alimentare di Marradi. In provincia di Firenze c'era il pericolo di chiusura, pericolo che sembra scongiurato almeno a quanto annunciato dall'azienda al tavolo che era stato convocato dalla Regione. L'azienda ha infatti proposto di mantenere i posti nello stabilimento di Marradi e di spostare il confezionamento dei marron glacé, questo è il prodotto fiore all'occhiello dell'azienda, nello stabilimento in provincia di Bergamo. In sintesi quindi niente chiusura ma riconversione della cosiddetta fabbrica del marrone. Questa è in sintesi la proposta dell'azienda che è stata illustrata in consiglio dal Presidente della Regione Gianni. Sentiamo un'intervista e a partire proprio dal Presidente. Sono contento che il dibattito in consiglio regionale si stia indirizzando nel modo in cui ho visto, ovvero grande responsabilità da parte di tutte le forze politiche, la volontà di arrivare a una mozione unitaria, come del resto io ho potuto assistere. Arrivamo quella domenica mattina in cui si è riunito il Consiglio Comunale aperto di Marradi e dopo gli interventi di centrodestra e centrosinistra siamo arrivati a un voto unanime. Questo dà forza a chi poi rappresenta le istituzioni, chi dà forza alla capacità contrattuale che insieme al movimento sindacale, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici possiamo esercitare sui titolari dell'azienda perché venga mantenuto sia il lavoro sia la tipologia di produzione. Finora gran parte del lavoro ha portato a dei risultati però non di totale soddisfazione. Noi vorremmo che tutta la produzione che finora c'è stata a Marradi fosse mantenuta a Marradi e che si avesse la consapevolezza che sul marrone di Marradi che ha 16 IGP, ovvero indicazioni geograficamente protette, che è quindi di una qualità sopraffina, possa convergere anche l'idea di una crescita di produzione. Visto che ci sono alcuni paesi, penso alla Spagna, il Portogallo, paesi dell'America Latina che stanno ora piantando e coltivando castagneti visto il valore nutritivo che la castagna dà. Poi al di là della castagna il marrone, questa tipologia che protegge ancora di più quello che è il valore nutritivo del prodotto a Marradi è naturalmente un'eccellenza. Abbiamo avuto il piacere di udire il governatore per quello che riguarda la crisi che riguarda Marradi, per l'azienda, per l'ottofrutticola di Marradi, che ci ha detto che ci sono stati degli sviluppi positivi. A noi risultava in realtà che gli sviluppi positivi fossero sviluppi al 50%. L'azienda resta, ma il 50% dei lavoratori stagionali sarebbero comunque andati a casa, così come il 50% dei 10 lavoratori a tempo indeterminato. Già questo noi riteniamo sia inaccettabile in quanto mandare a casa 55 famiglie in una realtà di confine come è Marradi, voglio ricordare a tutti che Marradi è l'ultimo comune toscano prima della Romagna, che ha un tessuto economico estremamente fragile, vuol dire mettere in difficoltà tante persone in un comune così piccolo. Anche per quello che riguarda poi il mantenimento del lavoro. Un conto è lavorare un prodotto di eccellenza come il marron glacé, il marrone mugellano di Marradi è IGT, il che vuol dire che è un prodotto riconosciuto di grandissima qualità a livello internazionale. L'azienda che ha acquistato l'ortofrutticola è per il 70% come maggiore investitore, di un'altra azienda che acquista il prodotto, lo rimette sul mercato distribuendolo a tantissime grandi aziende e si lascerebbe invece a Marradi soltanto il lavoro della seconda scelta, la macinazione della farina e l'imballaggio dei prodotti che poi vanno sul banco del fresco. Tutto questo noi riteniamo sia inaccettabile, bisogna che la regione toscana si impegni affinché questo non avvenga, bisogna che la regione toscana interagisca e faccia partecipare alla contrattazione anche le organizzazioni sindacali perché è troppo facile per una grande azienda confrontarsi con ogni singolo lavoratore. Chi si ritrova a confrontarsi da solo davanti a una grande azienda è in una posizione di fragilità, queste persone vanno fatte sentire forti e bisogna stare al loro fianco. Quello che abbiamo approvato ieri è un atto importante perché dà forza al Presidente della Regione, alla Vice Presidente, a tutta l'unità di crisi regionale per l'incontro che ci sarà venerdì prossimo con l'azienda, il secondo. L'azienda ha fatto una scelta secondo noi profondamente sbagliata e per la Toscana e anche dal punto di vista industriale. I marroni di Marradi sono un patrimonio di tutti noi, un patrimonio culturale, di paesaggio, agricolo ma anche industriale nella loro trasformazione. E quella fabbrica che occupa tra stagionali, in particolare in modo donne, più di 80 persone e quasi 90 se si contano coloro che lavorano in modo stabile dentro l'azienda, capite che per un paese di 3.000 abitanti diventa una bomba sociale difficilmente sopportabile, anzi impossibile da sopportare. Per quello noi siamo andati, tanti consiglieri, il nostro gruppo, il nostro partito, ma tante forze sociali, politiche hanno voluto testimoniare solidarietà, vicinanza, ma non solo, anche il lavoro per una prospettiva che parte dall'ascolto di queste donne, di questi uomini che hanno rischiato di perdere il lavoro e che anche di fronte al primo passo importante, cioè l'azienda ha rinunciato alla chiusura dello stabilimento, ha bisogno ora di un secondo passo fondamentale, un piano industriale serio, credibile, che mantenga le produzioni di eccellenze di qualità in Toscana e lì, perché lì c'è il prodotto pregiato, perché lì c'è la capacità di trasformarlo in maniera seria, perché lì ci sono le professionalità e la passione che si trasmette da secoli verso un prodotto così importante per la montagna mugellana e per la montagna toscana. Quindi continueremo a lavorare con forza insieme alla Giunta regionale. Abbiamo presentato anche noi un atto di impegno per l'ortofrutticola del Mugello, per l'azienda che si è vista sottrarre la trasformazione del suo prodotto tipico. Siamo stati presenti anche al presidio per portare la nostra solidarietà e quello che abbiamo trovato è stata una scena commovente. Un'intera comunità e il suo sindaco riunite intorno a delle famiglie, perché qui si tratta di famiglie intere, che lavorano a quella che è la loro tradizione, il loro orgoglio e che è quello che ha permesso anche loro per molti anni di portare a casa una fetta importante dello stipendio. Lo voglio ricordare, sono soprattutto molte donne che lavorano in questa azienda stagionali e il fatto di essere all'improvviso e in circostanze simili, diciamo, di essere messi a conoscenza di questa notizia è stato qualcosa che ha sconvolto non soltanto la comunità di Marradi ma tutta la Toscana. Una forma di delocalizzazione sui generis che però non possiamo accettare. Per questo anche noi abbiamo aderito poi all'atto che tutti quanti i gruppi hanno sottoscritto per rinnovare l'impegno a sedersi al tavolo con la proprietà e convincere non soltanto a non chiudere l'azienda ma anche a lasciare lì la produzione, la trasformazione del prodotto che viene raccolto proprio in quelle zone, il marrone mugellano, perché se la produzione si può trasferire e questo dal punto di vista della morale, diciamo, dell'etica economica certo non ci fa felici, non è certo possibile spostare la produzione di qualcosa che è così caratteristico come appunto il prodotto delle castagne del Mugello. Cambiamo argomento. Il Presidente della Regione, Gianni, su sollecitazione del Capogruppo di Forza Italia, Marco Stella, ha parlato in apertura dei lavori della seduta del Consiglio regionale delle misure adottate a scopo precauzionale per prevenire il diffondersi della peste suina in Toscana. Sentiamo che cosa ha detto il Presidente. La peste suina è in Italia, in particolar modo il focolaio è venuto dal Piemonte, sta contagiando con evidenti segni, carcasse, movimento di animali che danno proprio il senso della penetrazione dell'epidemia in Liguria e in Piemonte. Colpisce i cinghiali, non si trasmette all'uomo ma si trasmette agli altri suini, quindi nel momento in cui colpisce ad esempio i maiali i danni sugli allevamenti e sulle prospettive di carne e da alimentazione sono evidenti. Se con un'ordinanza del Presidente della Regione in Liguria e in Piemonte si è fissato tutte le determinazioni per l'emergenza epidemiologica, in Toscana noi abbiamo pensato nella provincia confinante, ovvero nella provincia di Massacarrara, ho firmato l'ordinanza domenica di interdire la caccia, perché la caccia soprattutto nei cinghiali, la braccata porta a un forte movimento e quindi una diffusione del virus, del contagio animale che ripeto poi provoca particolare sentimento e preoccupazione perché si trasmette dal naturale all'allevamento. Anche l'Emilia Romagna ha fatto una ordinanza del genere di interdizione della caccia nelle province limitrofe alle zone maggiormente colpite, stiamo monitorando la situazione, ecco non ci bastava il Covid-19 anche fra gli animali e in particolar modo fra i cinghiali e ci voleva anche questo, ma lo stiamo affrontando con determinazione. Cambiamo ancora argomento, il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di esercizio 2020 dell'ente parco regionale Alpi-Apuane. Sentiamo che cosa ha detto a proposito il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Elisa Montemagni. Noi abbiamo votato contrario a questo bilancio che dal punto di vista contabile in realtà è a posto, ma noi riteniamo che ci sia da fare una revisione seria dei parchi perché è inutile mettere delle voci in bilancio che poi vengono posticipate tutti gli anni, ora con la scusa della pandemia, ma prima non c'era la pandemia e i ritardi avvenivano ugualmente. Siamo in aula oggi, siamo nel 2022 a votare un bilancio del 2020, quindi due anni fa, quindi con anche il ritardo e con ovviamente le ricadute che sappiamo sul territorio che sono quasi nulle. Ormai i parchi in Toscana sono diventati per la maggior parte un peso per il territorio quando invece dovrebbe essere un'opportunità e dovrebbero essere sfruttati al meglio e vissuti da tutta la comunità e magari anche diventare un'attrazione. Quindi il nostro è ovviamente un voto politico perché sosteniamo che questo sistema non può più reggere e che ogni soldo speso in qualcosa che non funziona è un soldo buttato. Quindi noi speriamo che la giunta, la maggioranza si muovano nel senso che chiediamo ormai da anni e cerchino di trovare una soluzione al sistema parchi perché così oggettivamente in Toscana non funziona. Parliamo di sport, facilitare il rientro dopo il Covid. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione presentata dal gruppo Italia Viva sulla ripresa degli allenamenti di giovani e dilettanti. Sentiamo il capogruppo di Italia Viva, Stefano Scaramelli. Grazie a un atto della regione Toscana siamo arrivati a dare una risposta importante al mondo dello sport, a tutti quegli atleti dilettanti, tutti i giovani, tutti gli amatori che una volta che contraevano il virus dovevano attendere più di 30 giorni per poter fare un nuovo certificato medico sportivo e dovevano produrre dei esami molto onerosi e molto costosi. Io ho avuto modo di presentare un atto, una mozione forte in Consiglio regionale che oggi viene approvata in questo frangente. Nel contempo anche la federazione dei medici sportivi ha accolto le nostre richieste e proprio in queste ore il Ministero ha accolto questa istanza. Cambia quindi la metodologia con la quale un giovane, un atleta, un dilettante, un amatore può tornare a giocare, possono essere sufficienti solamente sette giorni, se ha meno di 40 anni o 14 giorni, se ha più di 40 anni, senza più dover produrre tutta una serie di certificati che diventavano anche molto costosi e molto onerosi. Si era creato un equivoco clamoroso, un professionista, un giocatore della Serie A, un minuto dopo, che era negativo, poteva scendere in campo e un ragazzo doveva attendere magari 30 giorni, sottoporsi a dei costi e nuove visite. Grazie a questo atto sono molto contento anche della larga condivisione, un'animità del Consiglio regionale che oggi concretizza il voto nel giorno in cui il Ministero accoglie la nostra richiesta che avevamo avanzato nelle settimane precedenti. Una dimostrazione concreta di come appunto la politica, se è attenta alle stanze che arrivano dal territorio, riesce a modificare e a migliorare la vita dei ragazzi e dei nostri cittadini. Chiudiamo con una interrogazione presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia sulla protezione civile regionale. Sentiamo. Sì, abbiamo presentato come gruppo di Fratelli d'Italia un'interrogazione sulla protezione civile perché abbiamo scoperto che dopo tre proroghe, lo scorso marzo, a giugno e a settembre, la Giunta si è scordata la quarta, cioè il 31 dicembre è scaduta formalmente la convenzione fra la Regione Toscana e il Corv, cioè il Comitato organizzativo a livello regionale della protezione civile, quindi la colonna mobile della protezione civile e oggi in piena pandemia manca questo tassello fondamentale che la stessa Regione aveva riconosciuto come elemento centrale nel nuovo sistema di protezione civile con la legge 45-2020, la quale peraltro è rimasta quasi del tutto inapplicata, a cominciare dall'individuazione degli ambiti ottimali per organizzare la protezione civile stessa sul territorio. Ci aspettavamo una risposta in consiglio da parte dell'assessore Monni, nessuno si è presentato questa mattina, evidentemente c'è imbarazzo da parte degli uffici della Giunta regionale su questa mancanza, speriamo che possano provvedere al più presto per rimettere a piano regime il sistema di protezione civile durante la pandemia, ma soprattutto che ci vengano a spiegare in consiglio che è competente sul piano di protezione civile qual è l'idea della Giunta per organizzare al meglio, in caso di calamità, l'intervento da parte anche delle associazioni del volontariato. È tutto per questo appuntamento con Morito del Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.